La piscina comunale d'Imperia da tempo chiusa per lavori è ancora una volta al centro della polemica. Farsi avanti con una nota la segreteria cittadina del Partito Democratico che contesta la mancata apertura dell'impianto entro la fine di novembre, come era stato annunciato dall'amministrazione in Consiglio Comunale. Il PD punta il dito sui disagi subiti dagli utenti negli ultimi mesi e chiede quanto tempo si dovrà ancora attendere prima di poter usufruire nuovamente della piscina. L'assessore allo sport Simone Vassallo, che segue i lavori insieme all'Arenantes, ha fatto sapere che gli interventi messi in atto sono importanti e tecnicamente complessi e che comunque la piscina riaprirà i battenti quanto prima. Ulteriori lavori, come annunciato in precedenza, verranno realizzati la prossima estate, proprio per evitare un prolungamento della chiusura nel periodo invernale, che è quello di maggiore affluenza del pubblico.